Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video dove andremo effettivamente a trattare di 5 progetti in questo caso importanti perché c'è stato appunto l'investimento ma specialmente sono stati incubati da Binance Labs e adesso andremo a vedere anche in quale in quale maniera infatti Binance Labs i top 5 in questo caso che sono proprio recenti come diciamo divulgazione dal punto di vista proprio dell'importanza e anche delle comunque metodiche che possono essere utilizzate su questi progetti e specialmente anche come si è mossa in questo caso il buon Binance Labs allora in questo caso abbiamo visto che comunque da un po' di tempo a questa parte Binance Labs è un punto ricorrente nell'investimento o comunque nella presenza di determinati progetti quindi che hanno rilasciato degli airdrop più o meno grossi ovviamente in differenti comunque situazioni partiamo anche da uno dei più grossi come ZK Sync parlo ovviamente dei più recenti come abbiamo visto anche con Arkham insomma da quelli in testnet a quelli comunque in mainnet Binance Labs bene o male compare spesso ecco che ora c'è anche una nuova narrativa adesso che sta andando particolarmente forte che vediamo comunque stiamo intravedendo comunque da tempo a questa parte e c'è un fulcro comunque molto importante che secondo me è proprio il punto sul quale si può andare ad ottimizzare al meglio possibile ovviamente un progetto che è proprio il timing quindi l'ingresso all'interno di quel determinato progetto alcuni rispetto ad altri o comunque alcuni piuttosto che altre tipologie richiedono un timing comunque di ingresso più che prioritario comunque prima è meglio è sostanzialmente e questo poi lo andremo anche a vedere sui vari post che osserveremo allora come prima cosa dobbiamo andare a trattare proprio la parte del Binance Labs con BNB Chain quindi con la rete di Binance che cosa abbiamo? Abbiamo la parte degli MVB che è la settima season appunto degli investimenti come riportato su questa parte infatti qua dice Binance Labs investe in 5 comunque progetti eccezionali comunque specifici from BNB Chain MVB season 7 la MVB è la most valuable builder quindi in questo caso vanno a prendere quei progetti che hanno di base secondo ovviamente i criteri di Binance Labs una valutazione, un'importanza a livello di sviluppo più interessante rispetto ad altri e poi infatti qua fa vedere anche che BNB Chain quindi il team della BNB Chain Binance Labs e anche CMC Labs che sarebbe la parte di CoinMarketCap che per chi non lo sapesse CoinMarketCap è di proprietà ovviamente di Binance quindi è tutto un ecosistema specifico e qua ovviamente andrete a vedere che già questi noi li stiamo osservando e seguendo comunque da tempo come Bloom, come voi, Sidekick recentemente anche l'abbiamo visto e poi abbiamo adesso qua degli altri due progetti di Aggregata e Opinion Labs sono importanti questi per il semplice fatto che vanno a prendere ovviamente delle caratteristiche differenti sono partiti comunque da poco quindi sono abbastanza freschi e hanno delle narrative come detto appunto di diverse Aggregata in questo caso va ad unificare i data tramite intelligenza artificiale vari modelli, computing all'interno appunto di questa piattaforma generica dove trovare tutte queste informazioni Bloom l'abbiamo visto ormai da tempo è la trading mini app di Telegram che sta spopolando e sta davvero facendo e sta portando davvero degli sviluppi spettacolari ma andiamo un attimo per gradi andiamo a vedere Aggregata in questo caso perché voglio mostrare quanto è importante la partecipazione come vedete qua in community privata la trattiamo in questo caso dal 24 agosto quindi è quasi un mesetto ormai che la stiamo utilizzando ed è associata tramite chat GPT vi farò un post specifico anche su questo così che potrete vederlo e comunque puoi anche parteciparvi in lungo, in largo così che avrete una spiegazione sotto ovviamente noi oggi andremo a vedere un po' una parte iniziale per capire un po' quello che abbiamo davanti e perché questa situazione qua è interessante come speculazione poi Bloom, eh ragazzi, Bloom che ve lo dico a fa? Bloom lo seguiamo da prima ancora che venisse fuori comunque abbiamo anticipato Binance Labs in questo caso ve l'avevo portato in questo caso il 16 di luglio o più precisamente quindi stiamo farmando più di Binance Labs quindi questo per farvi capire quanto è comunque importante la parte del timing quanto avere comunque del tempo in più seppur ovviamente il tempo di uno può pensare cavolo quanto passa, non passa più, non arriva più eccetera eccetera poi questo ci dà la possibilità di posizionarci molto meglio rispetto ad altri utenti che magari arrivano in ritardo e questo fa la differenza ricordatevi perché adesso qua siamo in testant però per fare un esempio come altri progetti 100 dollari messi al day one per farmare gli stessi punti farmati in un mese ok? dopo un mese chi è ritardatario quegli stessi punti li può farmare solo e solamente con 1000, 2000, 3000 dollari ok? per raggiungere quel punteggio lì in un mese quindi capite bene che la differenza di timing e la differenza comunque di attività è importante davvero importante poi abbiamo anche Opinion Labs ok? Sbuilding Dynamic Opinion quindi una parte per la previsione scusatemi dei mercati in questo caso che è Olab che ha anche annunciato comunque la parte di partnership con il buon Binance Labs tra l'altro saranno anche tu che inventi 49 quindi questo molto bello purtroppo me lo son perso e anche qua la stessa cosa come avevamo visto Opinion che erano in partecipazione nello stesso post di Sidekick anche su Telegram in questo caso è un altro mesetto che ci siamo dietro quindi vi riporterò anche questa parte comunque importante e interessante specialmente e da qua poi arriviamo a Sidekick come abbiamo visto che è la DAP su Telegram quindi la mini app su Telegram adesso in questo momento è sulla season 2 da fine agosto ad oggi tuttora è attiva comunque la season 2 di Sidekick che semplicemente bisogna collegarsi abbiamo visto anche nel video dedicato ai bot di Telegram c'è una piccola cosa da fare pagare il pass che costa tipo 10 centesimi così da avere poi le tasche giornalieri che possono dare dei punti bonus molto 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 importanti poi abbiamo il buon voi che come sappiamo ormai lo conosciamo in lungo e in largo l'abbiamo visto comunque da tempo anche qua come hanno detto il 22 agosto è stato confermato comunque questo investimento da parte di Binance Labs un ulteriore in realtà però ecco come abbiamo visto anche sul buon YouTube ragazzi un mese fa in realtà più di un mese fa quindi siamo arrivati anche qua prima di Binance Labs questo è per farvi capire prima di tutto la differenza e quanto è importante entrare con un timing buono la seconda cosa anche del sempre perché mi piace dire le cose e specificarle sempre come avete visto in community privata comunque c'è un determinato timing ma come anche sui social ve li riporto quindi ovviamente nella community privata ci sono delle cose in più perché materialmente sono più semplici da portare sono anche più spiegabili sono più c'è più anche interazione quindi è una cosa ovviamente differente ma non tralascio ovviamente anche la parte pubblica come ho sempre fatto e sempre farò quindi questo voglio che sia sempre chiaro io ovviamente la porterò alla parte della community anzi vi lascio i link anche comunque nella descrizione del video per chi fosse interessato o comunque anche interessato a parlare e chiedere su come funziona ma questi progetti sono molto interessanti perché appunto abbiamo visto qual è la metodica quindi aggregata bloom opinion labs sidekick che adesso è diventato sidefans e poi voi che sono 5 tipologie completamente differenti e che sono state incubate attenzione non solo hanno ricevuto l'investimento da parte di Binance Labs ma sono state incubate quindi supportate sotto ogni punto di vista questo cosa vuol dire che è altamente probabile che tutte e 5 finiranno anche con un listing direttamente su Binance quindi è una cosa da non sottovalutare fatemi sapere cosa ne pensate se li conoscevate tutti e 5 se li state già farmando e insomma fatemi sapere un po' la vostra se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati grazie a tutti